Nuovi cedimenti del manto stradale a Caltanissetta. È stato transennato dall'amministrazione comunale un tratto di strada davanti il collegio Sant'Agata. Come potete notare dalle immagini, il manto sta cedendo, o meglio le basole stanno cedendo. Forse a causa del passaggio dei mezzi pesanti o degli autobus di linea, perché lo ricordiamo Corso Umberto è chiuso al traffico veicolare, quindi le auto scendendo da via a Red Italia proseguono per questo tratto davanti il collegio Sant'Agata. Il tratto quindi è stato transennato, siamo in attesa di risposte dall'ufficio tecnico comunale e dall'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Tuminelli per sapere quando verrà ripristinato e in che modo verrà ripristinato.